Dolcetti e scherzetti, maschere e zombie, starghette e pipistrelli, scheletri e fantasmini. Il modo più sano per esorcizzare la paura è prenderla in giro. In questo senso, si sa, la notte di Halloween è sicuramente una festa efficace. Grazie al Ponte del Sorriso, spiega Emanuela Crivellaro, per tutta la settimana la festa più gioiosamente spaventosa dell'anno ha tenuto impegnati i volontari sul fronte organizzativo. I reparti pediatrici in provincia di Varese sono stati invasi da creatività, colori, disegni adeguatamente lugubri e nel pomeriggio del 31 è iniziata la grande festa. Scherzetti e faccine truccate naturalmente, ma anche regalini, golose merende e tanto divertimento. Con Halloween l'appuntamento è per l'anno prossimo, ma ricordate, per tenere alti i cuori dei piccoli guerrieri, ogni occasione è buona.